Io voglio fare un grosso augurio di buon anno a tutte le persone che soffrono, perché in questi momenti ce ne sono molte che soffrono. Spero che il nuovo anno li porti, che la loro strada possa essere illuminata almeno da un raggio di sole e che anche per Viareggio si illumini di un sole, che la riscaldi, che tutti i problemi si possano risolvere. Buon anno a tutti! E niente, auguri di buon carnevale più che altro, che ce n'è bisogno, perché il carnevale è un po' messo male a livello economico, speriamo che venga tanta gente, che ci siano tanti bei lavori e che veniate in tanti e che vi divertiate. Auguri di buon capodanno a tutti, siamo qua con il nostro amico Mario Draghi che sta cercando in qualche modo di trovare le soluzioni a questa grave crisi. Lo vediamo tutti i giorni, ma io l'ho riprodotto qui in cera, speriamo che mi ascolti e che trovi il modo di salvarci tutti quanti, non fare la fine come il Titanic in questa crisi che Berlusconi in qualche modo ha sempre negato. Auguri! Siamo sotto le feste e è doveroso fare un augurio. L'augurio è quello che i viareggini ritornino ad amare la propria città, che tutti ci si impegni a far sì che il viareggio ritorni ad essere viareggio come era una volta e che le critiche sì, bisogna farle, però spesso e volentieri bisogna un po' anche dimenticarle e lavorare anche per chi in effetti fa poco o nulla. Quindi l'augurio è che tutti quanti ci si rimbocchi le maniche e si porti via reggio ad essere quello che è sempre stata e che tutti ricordano. Auguri per un felice anno nuovo! Allora, in mezzo a questo ghiaccio, abbiamo un sacco di richieste anche per sciare, vi facciamo gli auguri di buon anno, che sia meglio, nonostante tutti i tagli, i taglietti, i tagliuccini, che sia meglio dell'anno passato. Auguri a tutti, buona salute a tutti, buona selvaggina a tutti, ci manca anche bene un po' di striscia, un po' di aglipino, un po' di pinuglioli e un po' di selvaggina, via! Buon anno, auguro a tutti gli areggini di mettere giudizio, buon anno! Tanti auguri per un buon 2012 e vi aspetto al carnevale, mi raccomando di venire tutti, ciao a tutti, auguri! L'augurio di buon anno è che, ma neanche via reggio ritorni la pelletina, ma ritorni a essere qualcosa di nuovo, veramente, perché a questo punto, dopo tanto anche dolore, quello che è successo, la strage, sì, un grande ricordo nel cuore, però anche una speranza che veramente tutto migliori, anche proprio umanamente intorno a noi. Faccio tanti auguri, ma che cambi tutto, 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 proprio un augurio che tutto cambi, ma davvero!